Certo! Ok! Io continui il basso, io cambio agile anche il disceso! Ho il vento! Sì! Cavoli! Il vecchio castello Mirabella! Ciò che resta! Cavoli di fidanza! Hai anche un raffreddo questa cosa? Sì! Vamo! chre Signe! Ho l'altro uniano, non l'è! po Se insieme! italiano... personalità! Non apercerò! l'affreddo, la&dd avella connesso in amarezza. ecco il lago di Pianpei. E quei due montagnole cosa sono? Mammole d'ommolo! Ammoli! E il mio tabac, non si vedete, non vedete, non vedete, non vedete, non vedete, non vedete, non vedete. questa volta è accesa no, una volta accima, due no non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, 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 non non, non, non non, 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 non Ah, carino! Siamo che capita la volta, vedi abbastanza, ci capitava che non detti proprio lo stilo che lo fai tutto a fare, eh sì perché c'erano quelli che ci hanno spaccato un po'